Altre a posto, via! Ciao la vede, insomma, l'avevamo detto, l'ha detto Ciccio Coarabi, l'ha detto anche Polloni, la vittoria è un po' una medicina e il parma ritrovata oggi è anche vero che ha faticato parecchio, non so se si trattava a trovare il gol, dal punto di vista offensivo che era un po' quei, non dico limiti, però quelle difficoltà che nell'ultima età si avrebbero come si hanno appassato. Sicuramente abbiamo racconto di meno di quelli che abbiamo creato, perché oggi la squadra che non si abbia fatto una grande partita sotto il punto di vista del gioco e dell'attenzione, abbiamo subito soltanto una ripartenza in finale che ci doveva costarcare, però abbiamo creato tantissimi palli di gol, non si è riusciti a concretizzarle tutte, poi per fortuna Michele è riuscito a realizzare il gol e c'è da dei tre punti, però penso che oggi la squadra ha dato una risposta importante al campionato e alla gente che magari pensava che il palli non fosse il palli. In queste ultime partite abbiamo un santale brillanti sotto porta, però comunque si è riusciti a creare, non siamo stati cinici come in altre occasioni, come ho già detto in altre circostanze di una partita dove la squadra aveva creato tre palle e gol e aveva realizzato due gol, quindi avevamo perso un po' di questo cinismo diciamo sottoporta. Oggi si è riuscita a realizzarle uno, speriamo che nelle prossime partite la squadra possa esprimere il proprio potenziale offensivo nei migliori dei modi e cercare di chiudere la partita e magari sbloccare la prima. Tra l'altro, oggi ci sei venuto vicino anche tu con un tiro da fuori, un bello scambio con il nuovo partito, sono moderato. Ecco, ci sono delle situazioni in cui magari proprio voi centrocampisti avreste magari lo spazio per provare la conclusione o magari preferite comunque il servizio verso un altro giocatore offensivo. Dico, dal Tardini spesso si urla dagli spazi, tira, tira, insomma, magari mancherebbe anche un po' quella che è la conclusione di voi, di voi centrocampisti che potrebbe essere pericolato. Però è una proiezione completamente diversa quella della di Urbuna e del campo, a volte la di Urbuna può sembrare molto semplice magari calciare da fuori o cercare la conclusione, però non sempre è così semplice. Oggi è sempre, mi è capitato due volte in una partita, forse non mi è mai capitato dall'inizio dell'anno, quindi non è sempre semplice perché magari una volta c'è l'invaso, una volta un'avversario, una volta ti accorgi che magari il tuo compagno è smarcato in una condizione migliore e quindi c'è chi di servirlo per realizzare il gol. Certo, magari bisogna provare anche le conclusioni da fuori, per ora ci teniamo quella di Michele che c'è da due tre punti. Come è data quel nuovo modulo che per la prima volta veniva proposto quest'oggi? Penso che sia andata abbastanza bello, ho visto una squadra che ha proposto un gioco fluido, anche perché loro comunque non hanno fatto questa partita all'attacco, diciamo sono venuti e hanno cercato di contenerci. La squadra secondo me ha mostrato bene la palla, abbiamo creato come già detto prima tante occasioni per poter sbloccare e vincere la gara, quindi penso che sia andata abbastanza bene. Nel secondo tempo la sensazione è che siano entrati più, riuscivano a entrare più giocatori in area, quindi sono state anche create maggiori occasioni, tante le ho che Messina arriva da dietro e conclude, avete avuto anche voi questa sensazione comunque nel secondo tempo di avere una manovra un po' più fluida che riuscisse a portare in area più giocatori? Sì, sì, magari nel primo tempo non ci siamo mossi alla perfezione, però poi nell'intervallo ci sono stati dei discorsi fatti con l'Inter, ci ha dato delle indicazioni e nel secondo tempo le cose sono andate in maniera diversa e i frutti si fondono tutti. L'ultima ripartenia è quel contropiede nel finale, se potevi evitare, cosa è successo realmente? Non ricordo bene una palla persa dal nostro attaccante, poi dopo un partito il contropiede, purtroppo è dall'inizio dell'anno che diciamo, sono cose che purtroppo possono capitare per una squadra come noi che comunque è costretta, cerca sempre di proporre il proprio gioco, cerca sempre di andare in avanti, magari una volta partita ti può capitare, magari fare più attenzione in queste situazioni ci può stare, dai, una volta partita però cercheremo di rimanere anche questi piccoli errori. Giorgino, per quanto ci si sforzi, ci si dice sempre le stesse cose, quindi vorrei allargare il discorso, non parlare della partita ma parlare di lei. Lei è un 85, quindi è prima della sua maturità, siamo quasi a marzo, le squadre si fanno in marzo, il Parma salvo caraclismi, farà la Liga Pro che sta entrando, lei ha già pensato al suo futuro, ha già parlato, si è sincero? No, non sono sincero, l'ho già detto in altre interviste, io penso che la società farà delle proprie valutazioni soltanto all'obiettivo raggiunto, penso che la maggior parte di noi o quasi tutti sarebbe felice di rimanere qui a Parma, perché comunque c'è un ambiente fantastico, l'ho già detto, abbiamo tutto per far bene, quindi per ora il primo obiettivo è quello di vincere il campionato, poi dopo la vittoria del campionato penso che la società deciderà con chi parlare o meno e si vedrà. Dalio è un momento che non gira bene neanche come episodi, la traversa di Bucaragli domenica come presentano anche loro, oggi la traversa di Baragli e poi c'è questo pezzo di rigore che sembra proprio, cioè a Parma non debba mai essere fischiato, sembrava abbastanza netto quello di Gallupo su Longobar. Non lo so, non ho visto l'immagine, poi in campo è una frazione di secondo, quindi non lo so se voi mi confermate, è rigore, cioè purtroppo è un periodo che diciamo siamo sfortunati e non riusciamo a prendere calci di rigore, però fa niente, l'importante era vincere, oggi la squadra l'ha fatto, ora mancano le partite a campionato, uno in meno, quindi dobbiamo ragionare di domenica in domenica, dobbiamo prendere partita per partita finché non si raggiunge l'obiettivo. Ok, grazie a tutti.